Buonasera. Il 2 giugno la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che il divieto dell'Arizona sulla raccolta dei voti è di fatto legale. Noi di Epoch Times siamo stati in grado di ottenere un'intervista esclusiva con il procuratore generale dell'Arizona per capire cosa significherà questo per lo Stato. Nel frattempo Facebook sta cercando di sradicare l'estremismo. Come? Beh, inviando messaggi ai loro utenti informandoli che i loro amici e familiari potrebbero essere diventati estremisti e cosa possono fare a riguardo. Ora, cosa classifica Facebook come estremista? Vediamo insieme queste storie. Io sono Roman di Epoch Times e questo è Fact Matter. Iniziamo la discussione di oggi parlando di Facebook. Se avete un account Facebook negli ultimi due o tre giorni potreste aver ricevuto un messaggio come questo. Sei preoccupato che qualcuno che conosci stia diventando un estremista? E appena sotto il messaggio continua. Ci preoccupiamo di prevenire l'estremismo su Facebook. Altre persone nella tua situazione hanno ricevuto supporto confidenziale. Quindi questo è un tipo di messaggio. Molti altri utenti di Facebook hanno riferito di aver visto un altro messaggio che è questo. Amy, di recente potresti essere stata esposta a contenuti estremisti dannosi. E poi continua dicendo. I gruppi violenti cercano di manipolare la tua rabbia e la tua delusione. Puoi agire ora per proteggere te stessa e gli altri. E allo stesso tempo anche un pulsante di ottieni supporto. Ora quando clicchi sul pulsante ottieni supporto ti porta a questa pagina dove tra le molte altre cose ti dà una lista di segni che certificano che qualcuno è diventato un estremista. La lista elenca atteggiamenti come dicono cose discriminatorie, mostrano quantità insolite di rabbia o aggressività, discutono o sono ossessionati dalla violenza o dalle teorie della cospitazione, trascorrono una nociva quantità di tempo online, si tatuano simboli estremisti o condividono meme o video con simboli estremisti. E poi in fondo ti dà una lista di suggerimenti su come parlare con i tuoi amici così come le risorse di consulenza a cui puoi mandarli. Ora al fine di capire cosa sta succedendo così come per scoprire cosa esattamente classificano come estremismo, noi di Epoch Times abbiamo contattato Facebook per un commento ed ecco cosa ci ha risposto il loro portavoce. Questo test fa parte di un lavoro più ampio nel valutare i modi utili a fornire risorse e supporto alle persone su Facebook che possono essere state coinvolte o esposte a contenuti estremisti o che conoscono qualcuno che è a rischio. Stiamo collaborando con ONG ed esperti accademici in questo spazio e speriamo di avere di più da condividere in futuro. Bene sì in questo caso hanno risposto anche se non è esattamente chiaro con quali ONG ed esperti Facebook stia collaborando né come determini quale contenuto sia dannoso o estremista. Questo non è stato chiarito. Ora tuttavia la maggior parte dei commenti che ho visto online cioè di persone che pubblicano screenshot di questo messaggio che hanno ricevuto da Facebook li hanno paragonati a un tipo di pulizia del pensiero da grande fratello orvegliano. Ecco solo un esempio da un delegato della Camera della Virginia. Sì in realtà ho una reale preoccupazione che alcuni tecnocrati di sinistra stiano creando un ambiente orvegliano dove le persone vengono arbitrariamente messe a tacere o bandite per aver detto qualcosa che non piace alla pulizia del pensiero. Altre persone si sono chieste se questo passo di Facebook sia passato dall'essere una piattaforma all'essere un editore. Ecco un esempio. Sì sto diventando un estremista, un estremista anti Facebook. È disponibile un aiuto confidenziale? Ma chi si chiedono di essere? O sono un editore e una piattaforma politicamente legalmente responsabile per ogni bit di contenuto che ospitano o devono starsi nella larga? La scelta di Zac. Ora questa mossa di Facebook arriva in un momento in cui le grandi aziende tecnologiche sono state criticate da entrambi i partiti ma per motivi diversi. Per esempio negli ultimi anni i legislatori democratici hanno fatto pressione sugli amministratori delegati delle grandi aziende tecnologiche come Facebook, Twitter, Google e Microsoft essenzialmente accusandoli di permettere estremismo, disinformazione e cyberbullismo sulle loro piattaforme. D'altra parte però i legislatori repubblicani hanno accusato queste piattaforme di censurare i punti di vista conservatori e di limitare la portata o talvolta di bloccare completamente dei contenuti che ritraggono i democratici in una luce negativa. Tuttavia con questi messaggi che sta promuovendo Facebook sembra aver portato i propri sforzi ad un nuovo livello. Perché non stanno solo prendendo di mira certe azioni ma sembrano prendere di mira ciò che è dentro la mente di un individuo. Non stanno solo chiedendo alle persone se i loro amici sono estremisti ma se hanno nozioni estremiste nella loro mente. Quindi dovremmo vedere come questo si svilupperà. Nella conversazione che ho visto su Twitter sembra che molti utenti siano preoccupati per la direzione che Facebook sta prendendo. Ora il tempismo di questa nuova funzione è interessante in particolare perché è arrivata subito dopo che una mossa per tenere a freno le big tech è stata bloccata. Questo perché qualche giorno fa una corte federale ha respinto due cause antitrust che sono state intentate contro Facebook. Ora queste cause sono state portate avanti da quasi tutti i procuratori generali statali del paese così come dalla FTC ovvero la Federal Trade Commission. L'intento era quello di fermare ciò che descrivevano come il monopolio di Facebook sul social network. Tuttavia il giudice del caso James Bosberg nominato da Barack Obama ha detto che la FTC non ha fornito prove sufficienti o spiegazioni sufficienti su come hanno determinato che Facebook controlla più del 60% del mercato dei social media. Ecco cosa ha detto il giudice come parte della sua sentenza. La FTC non è riuscita a presentare abbastanza fatti per stabilire in modo plausibile un elemento necessario di tutte le sue rivindicazioni della sezione 2, vale a dire che Facebook ha un potere monopolistico nel mercato dei servizi di social network personali. Nella sentenza il giudice ha anche detto che i social media sono liberi da usare e che inoltre è difficile capire cosa renda l'azienda classificabile come un sito di social media e poi ha concluso scrivendo questo. L'incapacità della FTC di offrire qualsiasi indicazione delle metriche o dei metodi usati per calcolare la quota di mercato di Facebook rende la sua vaga affermazione del 60% e oltre troppo speculativa e conclusiva per andare avanti. Dopo questa sentenza il prezzo delle azioni di Facebook è aumentato da oltre il 4%. Ora alcuni legislatori hanno criticato la sentenza del giudice dicendo che potrebbe solo provocare il congresso a perseguire una legislazione più aggressiva contro le aziende di social media. Per esempio ecco cosa ha detto Ken Buck che è un repubblicano del Colorado. Lo sviluppo di oggi nel caso della FTC contro Facebook mostra che la riforma antitrust è urgentemente necessaria. Il congresso ha bisogno di fornire ulteriori strumenti e risorse ai nostri agenti antitrust per perseguire le aziende big tech che si impegnano in comportamenti anticoncorrenziali. Ora noi di Epoch Times abbiamo raggiunto sia la FTC sia Facebook per un commento sulla sentenza ma non abbiamo ancora ricevuto risposta. Se volete leggere di più su questi messaggi antiestremisti che Facebook sta inviando ai suoi utenti o se volete leggere di più su questo caso antimonopolio che probabilmente andrà in appello troverete il link nella descrizione sotto questo video. E ora passiamo all'Arizona. Per cominciare passiamo in rassegna a quello che sta succedendo con l'audit delle elezioni. Secondo Reni Pollan che è uno dei responsabili della revisione dopo più di due mesi i revisori hanno completamente abbandonato il Veterans Memorial Colosseum e hanno detto ai giornalisti che il controllo continuerà in un alto degli edifici della zona fieristica di Phoenix. I due milioni di schede elettorali, così come l'attrezzatura, sono stati spostati nell'edificio Wesley Bowling che è a circa tre chilometri a sud del Veterans Memorial Colosseum. Ha inoltre detto che le macchine per il voto, le schede e gli altri materiali saranno protetti tutto il giorno da tre guardie di sicurezza. Stanno anche permettendo alle telecamere di sorveglianza di fornire filmati live stream dei materiali che si possono effettivamente guardare su azaoaudit.org. Ora, in termini di ciò che verrà dopo, ecco cosa ha detto il signor Pollan. C'è ancora un po' di lavoro da fare. Non penso che ci vorranno più di un paio di settimane per risolvere il tutto. Ora, il lavoro a cui si riferisce, come abbiamo discusso in un precedente episodio, è che il team di revisione ha già annunciato la scorsa settimana che il riconteggio manuale e l'esame cartaceo delle schede sono finiti e ora stanno concludendo la parte di revisione dell'esame forense, ovvero stanno guardando i macchinari per vedere se ci sono tracce di manomissione e le schede per rilevare possibili frodi. Per quanto riguarda i risultati, il signor Pollan suggerisce che dovremo solo aspettare. Ecco cosa ha detto. Non credo che usciranno dei numeri, numeri preliminari o altro. Questo dipenderebbe totalmente dal Senato. Sarebbe una loro decisione. I fornitori sono sotto un accordo di non divulgazione. È così quando il team di revisione darà il rapporto finale al Senato, attorno all'inizio di agosto. Aspetteremo di vederlo allora e sapremo tutto. Ora ci sono state alcune notizie sull'integrità elettorale in Arizona di cui vale la pena discutere. Questo perché lo scorso giovedì la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che il divieto dell'Arizona sulla raccolta delle schede elettorali è di fatto legale. Più specificatamente, in una decisione di 6 contro 3 che è stata divisa in linee puramente ideologiche, la Corte Suprema ha stabilito che il divieto dell'Arizona sulla raccolta delle schede, così come il voto fuori distretto non viola la legge sul diritto di voto federale. Come parte della loro sentenza, ecco cosa ha detto il giudice Samuel Alito. La politica fuori distretto dell'Arizona e la HB 2023 non violano la sezione 2 della legge sul diritto di voto e la HB 2023 non è stata emanata con uno scopo razzialmente discriminatorio. Ora noi di Epoch Times siamo stati molto fortunati. Abbiamo ottenuto un'intervista esclusiva con Mark Bromwich, che è il procuratore generale dell'Arizona, che ha effettivamente discusso il caso. Ha detto che la Corte ha riconosciuto che quando si tratta di tempo, luogo e modo, gli stati hanno molta autorità. Noi come funzionari pubblici non abbiamo dovere più sacro che proteggere il diritto al voto della gente, ma dobbiamo mantenere la fiducia nell'integrità dei risultati. Ora questa decisione è stata una vittoria per l'ex governo Trump, dal momento che avevano effettivamente depositato una memoria del Tribunale in questo caso, sostenendo la posizione dell'Arizona. Sul lato opposto, però, Joe Biden ha denunciato la sentenza della Corte Suprema, dicendo che indebolisce la legge sul diritto di voto e sostiene ciò che il giudice Kagan ha chiamato una significativa disparità basata sulla razza nelle opportunità di voto. Si riferisce a ciò che il giudice Kagan ha scritto nella sua opinione dissenziente. In quell'opinione ha scritto che le leggi dell'Arizona discriminano gli elettori di minoranza. Affermazione a cui Mark Bromwich si è opposto. Durante la nostra intervista infatti ci ha detto, se si accetta la logica del dissenso, allora quasi tutte le misure di integrità del voto promulgate da qualsiasi Stato sarebbero incostituzionali o incoerenti con la legge sul diritto di voto. Essenzialmente nazionalizzerebbe tutte le nostre elezioni, che è essenzialmente ciò che la sinistra sta cercando di fare con la S1 e HR1. E con queste due ultime si riferisce al cosiddetto For the People Act, che è la legge nazionale che i democratici stanno cercando di far passare al congresso proprio ora. Disegno di legge che se fosse approvato nazionalizzerebbe le nostre elezioni. Il signor Bromwich ha continuato dicendo anche, quindi penso che il giudice Kagan in questo dissenso stia essenzialmente eseguendo gli ordini dell'estrema sinistra, che sta cercando di minare questo sistema di controlli ed equilibri del nostro governo. C'è stato un tempo, non molto tempo fa, in cui anche i democratici riconobbero che i limiti sulla raccolta delle schede elettorali aiutano a proteggere l'integrità del processo. E proprio rimanendo su questa linea vorrei parlare di quello che sta succedendo in Pennsylvania. Perché solo pochi giorni fa il governatore democratico della Pennsylvania, Tom Wolfe, ha posto il veto ad una legge repubblicana sull'integrità delle elezioni. Tra queste altre cose questa legge elettorale, che era già passata nella legislatura della Pennsylvania, avrebbe ampliato i requisiti di identificazione degli elettori, avrebbe anticipato la scadenza per le registrazioni degli elettori e avrebbe limitato l'uso delle cassette di raccolta. Nello spiegare perché ha posto il veto al disegno di legge, il governatore della Pennsylvania ha scritto, ho chiarito che non avrei firmato un disegno di legge che crea barriere al voto, che è esattamente ciò che fa questo disegno di legge, limitando i voti per posta, limitando il voto anticipato, tagliando i tempi di registrazione degli elettori. E oltre al veto su questa legge elettorale, qualche giorno fa Tom Wolfe ha anche usato la sua autorità esecutiva per rimuovere una proposta di bilancio che avrebbe stanziato milioni di dollari per creare un'agenzia di controllo delle elezioni. In seguito a questo, il rappresentante statale Seth Grove, un repubblicano, ha accusato Tom Wolfe di aver deluso gli elettori, perché ha detto che le disposizioni all'interno di questa legge elettorale sono state sostenute dalla maggior parte dei pensilvaniani. Ecco nello specifico cosa ha detto. Dire che sono deluso dalla mancanza di azione di Wolfe è un efrumismo. Anche se Wolfe ha messo i paraocchi ai problemi del nostro processo elettorale, non significa che i problemi non esistano. Anche Heritage Action, che è un gruppo politico conservatore, ha criticato il veto del governatore, ribadendo che la misura era molto popolare. Ecco cosa hanno scritto. I requisiti di identificazione degli elettori sono un primo passo di buonsenso per proteggere le nostre elezioni. Sono supportati dal 74% degli elettori della Pennsylvania. E potrebbe davvero esserci qualcosa di significativo in questa affermazione. Perché anche se sia a livello statale che nazionale i democratici hanno chiamato le misure di integrità elettorale una forma di soppressione degli elettori, alcuni recenti sondaggi hanno suggerito che la maggioranza degli americani sostiene cose come i requisiti di identificazione con foto. Per esempio un recente sondaggio di Monmouth ha suggerito che il 62% dei democratici, l'87% degli indipendenti e il 91% dei repubblicani sostengono qualche forma di requisito di identificazione degli elettori. Quindi dovremmo vedere se la legislatura della Pennsylvania sarà in grado di annullare questo veto, il che francamente è improbabile. Tuttavia se volete leggere di più sul caso della Corte Suprema in Arizona o su questa legge della Pennsylvania trovate i link sempre nella descrizione sotto questo video. Questo è tutto per oggi. Vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo, se non l'avete già fatto, di metterci un like e di iscrivervi al nostro canale. Questo è tutto per oggi. Restate informati e restate liberi.